Ciao, oggi vi presentiamo la nostra proposta di legge Acqua Toscana pubblica, intitolata Norme per la tutela, il governo e la gestione pubblica del servizio idrico integrato. Dobbiamo fare necessariamente qualche passo indietro e tornare al 2011, quando 26 milioni di cittadini italiani ci hanno detto che vogliono il servizio pubblico dell'acqua e rifiuti interamente pubblico. Ebbene, proprio nel 2011 la regione toscana a guida PD Rossi fu la prima regione in Italia a privatizzare il servizio idrico. Con la nostra proposta di legge ci poniamo questi obiettivi facilmente raggiungibili e poi nel dettaglio vi entrerò nel merito anche nei termini finanziari. Il primo è ripubblicizzare il servizio idrico integrato, una nuova governance partecipata e diretta, prendendo anche spunto dalle migliori esperienze nazionali e internazionali, l'introduzione di un fondo solidaristico per le fasce deboli, l'introduzione, come le varie risoluzioni anche dell'ONU, di un diritto, di un diritto che deve essere garantito quello dei 50 litri d'acqua al giorno gratuiti per abitante e la sostenibilità della risorsa idrica. Allora, la domanda che sorge spontanea, ma quanto ci costerebbe ripubblicizzare il servizio idrico? Noi ci siamo basati sull'ultimo studio dell'autorità idrica toscana che ha fatto una tabellina molto sintetica e puntuale che ci dice quantifica questo costo. Se oggi scegliessimo di liquidare le partecipazioni private all'interno dei gestori dell'acqua, come sapete oggi in Toscana abbiamo 8 gestori per un totale di circa 2.589 dipendenti, questi 8 gestori curano 35.000 km di reti acqueduttistiche e 15.000 km di reti fognarie. Oggi in Toscana il 22% della nostra popolazione non è servito da depurazione e questi 7-8 gestori di servizio idrico integrato per il 40% sono in mano privata. Allora l'autorità idrica toscana con questo studio ci dice che se oggi volessimo liquidare la parte privata, nel rispetto tra l'altro dell'esito referendario, ci vorrebbero 550 milioni di euro. Allora noi abbiamo fatto un punto veloce se ci sono due strade da poter percorrere ed è completamente una scelta politica, noi lasciamo aperta questa scelta in capo al Consiglio, ma di sicuro pretendiamo che sia attuata la ripubblicizzazione del servizio e dobbiamo scegliere se farla o gradualmente a scadenze e questa cosa ci comporterebbe un costo di 6 milioni di euro all'anno in 30 anni, oppure se liquidare da subito il socio privato e questa operazione ci impegnerebbe per 18 milioni di euro all'anno in 30 anni. Questa è una cosa che si può fare, è prevista dalla normativa nazionale e con questa nostra proposta di legge la rendiamo fattibile da subito. Ricordiamo anche un aspetto importante, già oggi con la nostra tariffa si pagano gli investimenti che in realtà non vengono fatti, circa la metà degli investimenti previsti non vengono attuati dai gestori, nonostante la nostra rete idrica presenti circa il 37% di perdita, abbiamo il 22% di residenti non servito alla depurazione e nonostante ogni anno i gestori dell'acqua maturino utili per 70 milioni di euro. Con questa proposta di legge noi individuiamo, introduciamo una nuova governance partecipata anche in funzione delle varie esperienze della Repubblicizzazione che sono avvenute a Parigi o dell'esperienza di ABC di Napoli, con un controllo diretto dei cittadini, una governance organizzata per bacini idrografici ottimali, minimo 4 come dal decreto legislativo, ma si può arrivare benissimo a 8 quali sono oggi i gestori, l'individuazione di questi bacini idrografici ottimali deve essere sviluppata dalla giunta e approvata dal Consiglio e devono essere fatti tenendo conto sia dell'adeguatezza delle dimensioni gestionali, dei parametri fisici, demografici, tecnici e di economicità, ma anche di prossimità del cittadino, perché noi pensiamo che col controllo dei cittadini diretto, con funzioni decisionali, così come è prevista da questa legge all'interno proprio dell'Assemblea, si possano risparmiare un sacco di soldi, per esempio nei costi accessori, noi abbiamo visto cosa succede con i nostri gestori dove diverse milioni di euro se ne vanno nei cosiddetti costi accessori, gestori che forniscono software che se stesse sviluppano a costi più alti di quelli che fornirebbe il mercato. Con questo nostro modello si torna sul modello della proposta di legge popolare per acqua pubblica, su quanto è prospettato dal forum italiano e toscano dell'acqua, con un controllo diretto dei cittadini in capo ai comuni che possono scegliere gestione autonome del servizio in house. Introduciamo un altro aspetto fondamentale, l'acqua è un diritto universale che deve essere garantito, così come dicono tutte le risoluzioni dell'ONU e con questa proposta di legge, con l'utilizzo dei 70 milioni di euro di utili, noi possiamo garantire 50 litri al giorno per abitante in Toscana, anche grazie all'introduzione del fondo solidaristico che va a intervenire per quei problemi delle famiglie numerose che subiscono i così tanto agonati distacchi per amorosità, dove tra l'altro noi ci stiamo cercando di opporre in tutti i modi. Quindi sono due aspetti, il primo l'introduzione ai 50 litri gratuiti d'acqua con un costo dei 32 euro al giorno, abbiamo quantificato, già oggi sono previsti 20 litri gratuiti al giorno per abitante, noi vogliamo portarli quanto previsto dalle risoluzioni dell'ONU, arrivare ai 50 litri, si può fare con un costo di 32 euro abitante e questi soldi li possiamo prendere dei 70 milioni di euro di utili che oggi vengono distribuiti in parte nei dividendi dei soci privati, perché sapevamo benissimo che all'interno, tolto Gaia e SPA che è una società di diritto privato ma interamente pubblica, tutte le altre sono società di diritto privato con al loro interno il 40% soci privati e spesso troviamo banche, cooperative, i soliti soggetti famosi in tutta la Toscana. Quindi 50 litri d'acqua gratuito al giorno con questa proposta di legge e in più introduciamo un fondo solidaristico per le famiglie numerose che subiscono i distacchi, perché è incivile che ancora oggi nel 2017 chi non può permettersi di pagare la bolletta dell'acqua per morosità debba vedersi staccato il contatore. In ultimo affrontiamo anche l'aspetto della sostenibilità della risorsa idrica, come avete visto anche ultimamente qualche mese fa abbiamo subito nella nostra regione Toscana una grande crisi idrica, si cita in molte parti della Toscana e paradossalmente qualche mese dopo grandi problemi con le alluvioni. Allora questi cambiamenti climatici ci impongono di trattare la risorsa idrica con le prescrizioni della comunità europea, dell'Unione Europea e di tutte le risoluzioni internazionali e io direi anche del buonsenso, dove diamo una priorità all'utilizzo dell'acqua. In primo luogo deve essere utilizzata per fini umani e igienico sanitari e solo dopo per l'agricoltura e in ultimo per l'industria. L'industria dovrebbe attivare processi, interventi di economia circolare e fare moda e maniera per recuperare l'acqua dei processi industriali o l'acqua che deriva dalle depurazioni per reintrodurla nel processo produttivo. Come si può intervenire per indirizzare queste scelte? Facendo pagare l'acqua più cara a chi la utilizza per fini industriali e noi prevediamo addirittura una decuplicazione del costo dell'acqua per fini industriali. Noi ci siamo ispirati ovviamente anche da altre esperienze virtuose ma oggi vi presentiamo anche un metodo che è bene ricordare sempre in ogni proposta di legge che verrà presentata ai cittadini toscani e soprattutto agli iscritti del Movimento 5 Stelle. Oggi questa proposta di legge sarà inserita nel portale Rousseau per 60 giorni, accoglieremo tutte le proposte di modifica degli iscritti per migliorare questa proposta di legge che già oggi secondo noi è un capolavoro e si basa sull'esperienza dei forum mondiali, nazionali e toscani per l'acqua pubblica e sulla proposta di legge che abbiamo fatto anche a livello nazionale. Sono a disposizione per qualsiasi tipo di domanda perché mi hanno detto che con direttamente Facebook potete fare qualsiasi tipo di domanda. Se mi volete chiedere quanto costa l'acqua a metro cubo costa 0,03 centesimi di euro ed è per questo motivo che noi diciamo che 32 euro all'anno per abitanti per garantire 50 litri di acqua gratuiti al giorno si possono trovare facilmente in un bilancio regionale di 8 miliardi di euro. Allora i 2.589 lavoratori sono la nostra priorità del servizio idrico, sicuramente non avremo altrettanta attenzione per i vari consigli di amministrazione. Già oggi abbiamo visto per esempio in Publiacqua siedono membri nel consiglio di amministrazione che hanno avuto esperienze precedenti nei consigli di amministrazione di Banca Montelepaschi, guarda caso proprio quando avvenne l'acquisizione di Banca Anton Veneta. Ora questi sono fenomeni che vorremmo che non si ripetessero, noi vogliamo sostituire i consigli di amministrazione con delle belle assemblee di cittadini che con un controllo diretto indirizzano e monitorano il servizio di gioco integrato, affinché sia garantito la qualità minima, ma affinché anche vengano eseguiti gli investimenti previsti. Ricordo che oggi i gestori dell'acqua pubblica incassano 70 milioni di euro di utili senza fare gli investimenti previsti. Questo è un dato clamoroso. Ok, allora ci vediamo sulla piattaforma Rousseau aperti a ogni tipo di contributo. A presto, ciao ragazzi.